Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Aristanis TV. Apriamo con la sanità. La sanità sarda non è più capace di garantire le cure a tutti i cittadini. Va avanti grazie solo i professionisti che vi operano e questo nonostante la disabilità di cospicue risorse. Lo ha dichiarato Pietro Arca, presidente dell'associazione Lucio Abis. Vediamo. È necessario un atto di autonomia. Quest'ultima deve consentire che i fabbisogni sanitari debbano essere commisurati alle esigenze della Sardegna e non contingentati dalle norme dello Stato. Il reclutamento delle forze sanitarie deve essere fatto attraverso le strutture della Sardegna, in rapporto ai propri bisogni. Nell'isola si spende troppo poco per gli operatori sanitari, un'anomalia ed è quanto mai essenziale che la regione si doti delle nuove linee guida. Sono alcune delle proposte emerse nel corso del convegno svolto a Aristano organizzato dall'associazione culturale Lucio Abis. La sanità non è più capace di garantire le cure a tutti i cittadini. Va avanti grazie solo ai professionisti che vi operano, ha affermato il presidente dell'associazione Pietro Arca. Il problema più grande è quello dei medici di base, punto nevralgico tra il territorio e le strutture sanitarie. Un lavoro sempre sottovalutato, ma è importante perché limita ingressi e pronto soccorso. Noi e il territorio non siamo stati ascoltati, ha dichiarato Antonio Sulis, presidente dell'Ordine dei Medici. Un territorio dove mancano i medici di famiglia, dove ci sono 40.000 persone senza medici di base. Gli ASCOT non risolvono il problema, abbiamo sbagliato l'approccio con la rete ospedaliera. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Aristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale a Ghilarza, avvenuto in prossimità dell'incrocio tra via Giovanni Paolo II e via Monsignor Zucca, inviata sul posto la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha immediatamente provveduto la messa in sicurezza delle due autovetture coinvolte e del tratto stradale interessato dal sinistro. Sul posto anche le forze dell'Ordine per i rilievi del caso e il 118, che ha trasportato in ospedale a Oristano i due conducenti, feriti lievemente per accertamenti. Voltiamo pagina. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Arma dei Carabinieri ha promosso iniziative di sensibilizzazione e formazione. Vediamo. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale di Oristano ha partecipato alla campagna di comunicazione e responsabilizzazione organizzata dal Comando Generale dell'Arma. Presso il Museo Diocesano Arborense, nel corso dell'evento organizzato dal Centro Antiviolenza Donne Eleonora, i Carabinieri hanno presentato due video di informazione e sensibilizzazione. L'intervento si è incentrato sulla risposta che l'istituzione fornisce i fenomeni di violenza, a partire dalla prima accoglienza ed ascolto in caserma, grazie anche alla creazione delle stanze protette. La stanza protetta, inaugurata lo scorso 25 novembre 2023 presso la sede di Via Lofredo in collaborazione con Soroptimist Italia, è stata in questi mesi ulteriormente implementata con nuovi elementi d'arredo e il potenziamento degli apparati informatici per la gestione dell'attività di Polizia Giudiziaria, risultando fondamentale la ricezione ed ascolto di ben 25 persone vittime di violenza. Per tutta la giornata la sede del Comando Provinciale è stata illuminata di arancione, simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. Al Via, a Oristano, il progetto educativo Pippi, che coinvolge 30 famiglie con figli minorenni. Vediamo. Ha preso corpo il progetto educativo Pippi, promosso dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Oristano. È il risultato di un innovativo modello di azione pubblica, avviato nel 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare del Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, che gestisce una governance multilivello con le regioni italiane. È rivolto a insegnanti, educatori, operatori del servizio sanitario, coordinatori dei nidi e a tutte le persone che hanno a cuore la crescita dei bambini per aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli nel migliore dei modi possibili. Ha precisato l'Assessore ai Servizi Sociali, Carmen Murru. Nei giorni scorsi il Servizio Sociale del Comune, insieme ai referenti della Cooperativa Sociale COINOS, hanno presentato il programma nel corso di un incontro di sensibilizzazione. Nei prossimi 18 mesi coinvolgerà 30 famiglie residenti con figli tra 0 e 17 anni. Nuovo volto per Piazza Manno. Ce ne parla Paolo De Zogus. Hanno pavimentato quasi tutto e dove non lo hanno fatto la pavimentazione composta da lastre d'erba. Nella storica piazza questo avviene nello spazio di sinistra posto di fronte all'edificio scolastico ancora intitolato al reggio liceo ginnasio, mentre più esteso l'intervento dello stesso genere lungo la casa circondariale, le ex carceri, dalla via Gio Maria Angioi, alla via Solferino. All'interno della piazza sono sopravvissuti 12 alberi tranne quello posto di fronte alla scuola. Ultimo angolo coperto è quello a destra della scuola che porta in Vico Episcopio, già via della missione. Qui è aperto un altro cantiere, è detto per ripristinare la pavimentazione a scacchiera del Sagrato, appartenente alla chiesa degli evangelisti demolita agli inizi del 1900. La ricostituzione della pavimentazione che formava l'antico Sagrato è stata affidata all'impresa di restauro arborense, la quale dovrà riportare all'antico splendore quel tratto di piazza. Proseguono in città e nelle frazioni gli interventi di potatura degli alberi disposti dall'assessorato all'ambiente del comune di Oristano. Da giovedì 28 novembre gli addetti interverranno nella via Carlo Meloni. Per consentire l'esecuzione dell'intervento è stato disposto il divieto di sosta provvisorio con rimozione forzata. Censimento permanente 2024, oristano partecipanti alla rilevazione nazionale i dettagli nel servizio di Laura Marchi. Il 1 ottobre 2024 è iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge un campione di circa un milione di famiglie in 2.530 comuni italiani. Questa indagine fornisce dati sulle caratteristiche socio-economiche della popolazione e permette confronti storici e internazionali. L'Istat integra i dati del censimento con quegli amministrativi per offrire informazioni precise e ridurre costi e disagi per le famiglie. Nel comune di Oristano nel 2024 si svolgerà solo la rilevazione dall'Istat con 1.424 famiglie selezionate. Le famiglie possono completare il questionario autonomamente online utilizzando le credenziali fornite dall'Istat. Hanno anche la possibilità di contattare il numero verde Istat 800 188 802 attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre oppure recarsi al centro comunale di rilevazione in piazza Eleonora d'Arborea. La partecipazione è obbligatoria per legge e la mancata risposta comporta delle sanzioni. Il comune di Oristano ha aperto una selezione pubblica per assumere a tempo indeterminato un termoidraulico, un idraulico e tre muratori. Le domande devono essere presentate online tramite il portale unico del reclutamento INPA entro le ore 13 del 2 dicembre. Ogni candidato interessato a più profili deve inviare una domanda per ciascuna posizione. Le prove di selezione si svolgeranno il 10 dicembre con una prova scritta alle 9.30 e una prova orale il 12 dicembre sempre alle 9.30 presso il cantiere comunale. Dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa nuove modifiche alla pesca sportiva. I dettagli nel servizio di Laura Marchi. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa informa il pubblico sulle modifiche relative alla pesca sportiva e ricreativa con il palamito. Nella normativa si legge che il numero massimo di ami consentiti è fissato a 100, indipendentemente dal numero di persone a bordo. È necessaria una richiesta ufficiale all'autorità marittima per praticare la pesca con il palamito utilizzando un modulo con marca da bollo disponibile presso le autorità marittime. L'autorizzazione avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata ogni anno. Gli attrezzi devono essere contrassegnati con una sigla visibile tramite una targhetta che deve rispettare requisiti specifici di materiali e di dimensioni. Il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, tenente di Vascello, Alessandra Gabrini, invita a contattare gli uffici locali per assistenza e segnala che verranno effettuati controlli per assicurare il rispetto delle norme. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16. Pubblicazione della lista degli studenti beneficiari della Borsa di studio nazionale per l'anno scolastico 2023-2024. Gli interessati possono consultare i nomi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune d'Oristano. I dettagli nel nostro servizio. L'assessorato della pubblica istruzione ha pubblicato la lista degli studenti beneficiari della Borsa di studio nazionale per l'anno scolastico 2023-2024. Gli interessati possono consultare i nomi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune d'Oristano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e 30 e il martedì dalle 15 e 30 alle 17 e 30. I genitori degli studenti minorenni devono presentare il codice fiscale dello studente per informazioni sulla graduatoria. Si precisa che la Borsa di studio nazionale esclude quella regionale per lo stesso anno. Il pagamento sarà effettuato tramite la carta post-pay, Borsa di studio, che può essere ritirata presso qualsiasi ufficio postale. Gli studenti già beneficiari negli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 riceveranno l'accredito sulla stessa carta. La Borsa di studio deve essere utilizzata entro 15 mesi dalla data di erogazione. Per ulteriori dettagli è consigliabile consultare il sito Io Studio. Nel 2025 la cooperativa sociale Il Seme celebrerà i suoi 40 anni. Sentiamo nuovamente Paolo De Zogus. La cooperativa sociale Il Seme con sede a Corte Baccas, che ha trovato radicamento nel territorio grazie al suo impegno sociale, celebrerà il prossimo anno i suoi 40 anni di vita presentando un bilancio rivolto in via esclusiva al sociale appunto e alla prevenzione. Un segmento irrobustito dalla internazionalizzazione delle diverse iniziative culturali svolte che hanno coinvolto istituzioni come la Fondazione di Sardegna, enti locali, diverse associazioni culturali e partiti politici. In questo fine 2024 è stata avviata non solo la preparazione del quarantesimo della cooperativa Il Seme, ma anche quella del settimo simposio d'arte dal titolo Hispanidad, con l'attività preparatoria avviata presso la comunità Il Seme attraverso la realizzazione di un murale ad opera dell'artista messicana Paolina Lozzano Franco, che sarà protagonista unitamente agli artisti Shirley Ramos, Ismael Zapada, Moreno e Omero Recia Gomez. Nel simposio che si celebrerà nell'ambito della manifestazione per i 50 anni delle relazioni diplomatiche Italia-Messico e i 170 anni di relazioni tra la Sardegna e il Messico, che vedrà la partecipazione di artisti diversi e l'ambasciatore del Messico in Italia. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.